Sull'ultimo termine, come capite, noi dissentiamo, lui lo ha detto nell'intervista, Luigi Crispino è sempre in grado di prendersi le sue responsabilità, l'ha detto in una fase pubblica, quindi non sarebbe stato neanche giusto tagliarlo, lui lo ha detto e chiaramente io dissento da quello che è stato detto, anche se a un certo punto dice se è quello l'atteggiamento, non lo so. Allora, se si spendesse meno, se si lavorasse di più dal punto di vista della programmazione, se si desse più aiuto alle compagnie nel modo giusto, non come c'è scritto lì, quello lavora là perché lasciamole stare, queste cose noi potremmo crescere senza bisogno di andare a pagare consulenti di qualunque genere. Detto questo ci spostiamo a Ispica e poi a Pozzale. Allora, una cosa importante a Ispica perché purtroppo la tecnologia oggi ci costringe a seguire dei ritmi particolari e solo se questi ritmi poi vengono adeguatamente supportati dai lavori, da chi riesce a fare le cose giuste, allora vi posso dire che una città che non ha la banda ultralarga, che non può andare su internet con la giusta velocità è chiaramente una città in grande difficoltà. A Ispica è già operativa la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultralarga, la Open Fiber, queste sono le immagini, ha concluso i lavori di realizzazione dell'infrastruttura di rete che consente ai cittadini, imprese, professionisti del comune della provincia di Ragusa di accedere a internet con prestazioni efficaci all'avanguardia. Ora guardate, non è uno scherzo, perché noi che lavoriamo con questo settore, pensate che in televisione senza una banda ultralarga noi avremmo delle enormi difficoltà, enormi difficoltà, perché tutti i nostri collegamenti, il segnale che va alla raido è tutto su internet e chiaramente con una banda larghissima, con una velocità eccezionale e se queste cose non ci sono le città sono in qualche modo meno importanti. Io so di molte città della Sicilia che hanno appena i 20 mega, insomma qua siamo arrivati a 2.000, pensate, quindi ottima operazione, la rete raggiunge 1.817 autorità immobiliari e così via, insomma i vantaggi della nuova rete non ce li spiego io, ma sono chiari, guardate con questo filo di ottico, con questa fibra ottica si viaggia a velocità straordinaria su internet. Restiamo a Ispica un attimo, ci sono le dimissioni di un assessore, l'assessore Denaro, il sindaco Innocenzio Leontini ha detto è un personaggio che ci ha dato molto, lui si dimette per i fatti suoi, noi gli auguriamo maggiori fortune, poi bisogna vedere cosa c'è dietro. Vi dicevo ce ne andiamo per un attimo anche a Pozzallo, perché pare proprio oggi ricorre la nascita di Giorgio Lapira, avete il 120esimo anniversario di Giorgio Armino nei prossimi giorni e quindi Pozzallo ha preparato un programma che ora la nostra Giovanna Canizzaro ci spiegherà in questo servizio e anche noi avevamo preparato qualcosa per spiegare, perché io dico tante persone, lo sapete poi chi è stato Giorgio Lapira, sindaco di Firenze certamente, ma cosa ha rappresentato, allora avevamo preparato un servizio, però oggi non riusciamo a mandarlo in onda, sicuramente lo faremo domani sulla vita di Giorgio Lapira. Invece ora guardate il servizio della nostra Giovanna Canizzaro e poi ci sarà Gianni Papa con la seconda parte del servizio sui presepi che ha realizzato ieri andando a Ibla. Con questo chiudiamo l'indice, domani e venerdì ci sarà di nuovo Cesare Purchino e parleremo degli ultimi appuntamenti di queste feste che si vanno a chiudere, perché come si dice l'Epifania, tutte le feste porta via. Grazie, ci vediamo con la prossima edizione. Ciao a tutti.